Sono passata e ho visto che le spiagge erano un po' sporche, poi ho visto che stavate pulendo e quindi mi sono voluta aggiungere. La giornata ecologica Puliamo il mondo di Lega Ambiente ha radunato sulla spiaggia incontrata a Pali a Sapri le associazioni da sempre impegnate nella tutela dell'ambiente. Una nutrita squadra di volontari ha trascorso diverse ore a ritirare dall'arenile tonnellate di spazzatura di ogni genere, finiti in 15 grosse buste di plastica, accanto a queste anche un cumulo di rifiuti ingombranti. Una giornata di pulizia che ha fatto bene all'ambiente e che conferma, considerando la montagna di spazzatura prodotta, l'insensibilità di istituzioni e cittadini rispetto alla tutela del patrimonio naturale. Quel tratto di spiaggia in particolare è antistante al circolo nautico dove si svolgono diverse gare veliche di livello nazionale e dunque punto di ritrovo di appassionati di vela di tutta Italia. Hanno aderito alla giornata ecologica anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Sapri, guidati dal comandante Francesco Corso e il sindaco Antonio Gentile.